Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparo e so cose. E oggi il Lombardo-Veneto torna a essere austriaco con questo fantastico Mannlicher M95. Lo Steyr Mannlicher M95 non è soltanto l'arma dell'esercito austriaco che ha visto la Prima Guerra Mondiale dall'altro lato della trincea, quindi come ben sapete gli italiani, come abbiamo visto su questo canale con il carcano, gli austriaci invece usavano questi Mannlicher e non solo, usavano anche altri Mannlicher. Ma Ferdinand Mannlicher è anche un personaggio importantissimo. Infatti oggi da molti è dimenticato, infatti il suo lavoro non ha avuto una eredità evidente come può essere quella di Joe Moses Browning, ma per chi è attento, per chi studia ed è appassionato di armi, chi è un vero plofilo conosce bene questo nome e sa la sua importanza. Oggi anch'io vi voglio raccontare di Ferdinand Mannlicher e il suo M95. Andiamo! Eccoci qua in studio, senza cicale, a raccontare la storia dell'M95 e del suo inventore, Ferdinand Mannlicher. Prima di addentrarci nella sua biografia e nella storia di come ha realizzato quest'arma, volevo farvi notare una cosa molto importante. Ferdinand Mannlicher è stato un inventore estremamente prolifico, l'uomo ha qualcosa come 150 brevetti a suo nome nel campo armiero. E c'è chi addirittura per importanza di questi brevetti e del numero stesso dei brevetti lo ha paragonato a John Moses Browning. Ferdinand Mannlicher è un po' il John Moses Browning europeo. Ha la sfortuna che dei suoi design non è lampante che cosa ci è rimasto. Non ci sono infatti pistole che chiudono con sistemi Mannlicher o cose del genere, mentre il nome di Browning per esempio lo sentiamo di continuo. Il lavoro che vi racconto oggi di Ferdinand Mannlicher, quello appunto sui fucili militari straight pole, quindi ripetizione manuale, è in realtà soltanto una piccola fetta della torta che ha fatto Mannlicher. Mannlicher è stato importantissimo per quanto riguarda quella sperimentazione nel campo delle armi autocaricanti. Mannlicher ha anticipato di decine di anni, se non di centinaia di anni, parecchi dei concetti che sono molto familiari a noi. Nel 1885 brevetta quella che è una carbina semiautomatica o una mitragliatrice leggera, dipende da come si va a configurare, nel 1885 ancora ci sta la polvere nera, per dirvi quanto è stato pioniere l'uomo. Un'altra cosa molto importante che fece tendenzialmente andare a brevettare quello che è la massa con ritardo, il sistema di chiusura massa con ritardo, sperimentò tantissimo con i sistemi a gas per il riarmo delle armi. E casualmente subito dopo i suoi brevetti i francesi iniziarono a fare ricerca sulle armi semiautomatiche, che tra l'altro vi ricordo avevano un fucile semiautomatico. Quel fucile semiautomatico alla lontana ispira il Garand, il Garand è base dell'AK, insomma anche nella Kalashnikov c'è un po' di Mannlicher. Ferdinand Mannlicher nasce nel 1848 a Mainz in Germania. Nonostante avesse il padre ufficiale delle forze armate austriache, la sua educazione sarà prettamente tecnica. Subito dopo la maturità a liceo va infatti all'università di Vienna. Quasi subito dopo l'università verrà assunto dalle ferrovie austrieche, tra l'altro azienda con la quale avrà molti rapporti duraturi nel tempo. Pare che Mannlicher si interessi alla questione dell'armamento delle truppe o comunque delle armi leggere dopo la battaglia di Königgratz o battaglia di Sadova. Come forse sapete, nel 1866 i prussiani passano il pavimento con gli austriaci armati dei Loretz ad avancarica, i prussiani ovviamente armati del Dreyse a retrocarica. Con questo colorito riferimento a un mocio voglio dire che i prussiani, quello che fecero i prussiani con la retrocarica, impressionò davvero tutta quanta l'Europa e tutti quanti corsero ai ripari, adottando spesso nell'arco di pochissimi mesi armi a retrocarica. Tanta infatti fu l'umiliazione dell'esercito austriaco dopo questa battaglia e l'efficienza dimostrata dall'arma a retrocarica dai prussiani. Nel 1876 viaggia negli Stati Uniti, va a Filia Delfia, all'esposizione centenniale, ovvero quella per il centenario appunto degli Stati Uniti, dove a modo di conoscere tutti gli ultimi design americani, soprattutto i sistemi di caricamento, parlo ancora in questo momento dei sistemi tubolari, anche se sappiamo che con i caricatori James Paris Lee ci sta sperimentando, e decide di tentare la fortuna nel campo delle armi. Per continuare questa storia dobbiamo introdurre un secondo personaggio, Joseph Wendrell, nativo della cittadina austriaca di Steyer, dove nascerà, lavorerà e morirà. Wendrell fin da giovane lavorava nell'officina del padre con i fratelli, un'officina che faceva tante cose. Faceva anche parti di armi, vari pezzi, ma per esempio era anche una segheria. Diremmo una grossa officina che può fare varie lavorazioni di metallo. Così come Mannlicher, Wendrell studierà ingegneria all'Università di Vienna. Dopo la laurea, con il massimo dei voti, torna a lavorare a questa azienda del padre. Wendrell ha un grosso talento, e non mi stancherò mai di ripetere questa cosa, che gli ingegneri o le persone che sono in grado di mettere in produzione un prodotto, che sia un telefono, una pentola o un'arma da fuoco, sono tanto importanti, se non più importanti, dell'inventore e del brevettatore dell'arma stessa. Perché fare un prototipo che funzioni è relativamente facile. Capire come farne centinaia di migliaia a costo contenuto e che siano affidabili, quello è il vero genio. E Wendrell è bravo a fare questo, oltre ad avere un grandissimo intuito per il business. L'azienda del padre, come altre aziende che si concentravano a stare di questo tipo, erano infatti disorganizzate, decentralizzate. Avevano quasi un'economia pre-industriale in un'economia invece industriale, nel pieno della seconda rivoluzione industriale. Dopo la morte del padre riesce a prendere le redini dell'azienda, che viene ristrutturata. Nel 1856 apre un'azienda stavolta che porterà il suo di nome, specificando che è una Waffenfabrik, una fabbrica d'armi, e ancora una segheria. L'abilità imprenditoriale di Wendrell iniziò a pagare. Da un'azienda di poche decine di persone passerà a 500 persone. Quando si presenterà un'occasione d'oro? Dopo la sconfitta dei Koningratz, l'esercito austriaco, che, ricordiamoci che in questo momento è il più grande esercito che ci sta in Europa, in termini di personale fisso, ha bisogno di una nuova arma. Ha bisogno di una nuova arma a retrocarica, deve essere prodotta in centinaia di migliaia di esemplari, e gli serve per ieri. La grandissima intelligenza di Wendrell fa sì che lui, già dall'inizio della sua azienda, si circondava di giovani e talentuosi ingegneri. L'intelligenza dell'imprenditore, del leader, con la L maiuscola, è proprio quella di riconoscere i valori nelle altre persone, e i talenti che altre persone possono avere. Wendrell vede cosa ci sta nel mercato di invenduto, vede che un certo Karel Holub ha un design pronto, compra il design, compra il tizio perché se lo porta con sé a Steyer, ci mette il suo nome sopra come se fosse una firma, e lo propone all'esercito austriaco. Questa proposta vincerà. L'esercito austriaco adotterà così, nel 1867, il Wendrell Holub, che di Wendrell non ha niente se non il nome, perché è un progetto interamente di Holub, ma Wendrell ha saputo vedere il potenziale, metterlo in produzione, e convincere l'esercito austriaco ad adottarlo. Mi sta simpatico Wendrell, è un chad totale. Un altro talento che sicuramente ricorderete, che si era portato a Steyer, è un certo Kropacek. Abbiamo visto uno di questi design. Ricordatevelo perché sarà citato più avanti. Ora, l'azienda di Wendrell non era grande abbastanza, non era grande a sufficienza, a produrre l'enorme volume richiesto dall'esercito austriaco. Ed ecco che Wendrell riesce a riunire tutte quante le manifatture di Steyer, fondare una nuova società per azioni, di cui lui rimane a capo, così da dare la mano d'opera a una struttura centralizzata, fondando così la Osterreichische Waffensfabrik Gesellschaft. Siccome questo nome è lungo da pronunciare, divenne molto più famosa dal luogo dove aveva sede. Steyer, appunto. Wendrell trasformerà la Steyer in un gigante. La Steyer diventerà, in quel momento prima della Prima Guerra Mondiale, la più grande fabbrica d'armi in Europa. E nel senso più ampio di questa storia, oltre alle armi, la Steyer farà tantissime altre cose. E trasformerà una cittadina preindustriale in un centro importante economico dell'Austria. Tanto che a Steyer stessa ci sta una statua a Joseph Wendrell, che fu un ingegnere, ma soprattutto un imprenditore di grande ingegno. Tornando al nostro Mannlicher, Mannlicher inizia a lavorare sui sistemi di caricamento per appunto dare più potenza di fuoco all'esercito austriaco. È vero che avevano adottato appunto un'arma a retrocarica, ma Mannlicher, siccome anche ha visto molti di questi sistemi in America, è convinto che il passaggio successivo debba essere il caricatore. E non intendo un serbatoio, intendo specificamente il caricatore ammovibile. E deve essere tutto quanto abbinato a un sistema che permetta una ricarica rapida dei colpi e una rapida alimentazione. Abbiamo già citato nell'introduzione il suo importante lavoro sulle armi autocaricanti, ma fece anche parecchio lavoro, forse per il quale più famoso, sui fucili d'afanteria. L'esercito austriaco non era in una buona situazione finanziaria, ma quando i tedeschi introducono nel 1884 il Mauser 71-84, quindi un'arma a ripetizione, gli austriaci, che sono ancora indietro con l'armi a colpo singolo, capiscono che devono finalmente prendere una decisione, decidersi ed adottare un'arma a ripetizione. Solo che lo stesso esercito austriaco voleva fare le cose molto economiche. Voleva che tutto questo processo di adozione di un sistema di caricamento fosse più economico possibile e più semplice possibile. Si considerava seriamente per esempio una conversione del Wendelholub ad utilizzare un caricatore. Vennero fuori proposte come per esempio usare dei caricatori a gravità, potendo adottare dei sistemi bolt action relativamente semplici. Mannlicher premeva per un caricatore interno, ma non riusciva a convincere per nessuna ragione al mondo gli austriaci. Per convincere l'esercito austriaco bisognava fare qualcosa di radicalmente diverso, introdurre una tecnologia così radicale in quel momento e sufficientemente economica da convincerli. Mannlicher ebbe così il colpo di genio. Mettere le munizioni in un pacchetto unico, che comprenda anche i labberi di alimentazione e tenga le munizioni ben controllate, da inserire all'interno tutto quanto dentro a un caricatore fisso che abbia la molla dell'elevatore e l'elevatore stesso. In tal modo non c'era il problema del caricatore esterno che veniva sprecato, ma la componente che veniva usata e in realtà buttata via era estremamente economica. Si aveva così il vantaggio del caricatore senza il costo del caricatore o di tanti caricatori. Il tutto era abbinato a un otturatore straight pull, quindi indietro e avanti si compieva il ciclo dell'arma, estremamente semplice. Tra l'altro mi ricordo un pochino la beretta perché utilizza un blocco cadente per completare la chiusura. Questo design se lo abbatte un pochino con il cropace, che appunto abbiamo già citato e anche abbiamo visto su questo canale, ed era in quel momento uno dei più moderni fucili sulla terra. Se non che i francesi introdussero il Lebel. Ovviamente la prima arma a polvere in fumo è che scatenerà un altro panico armiero. Gli austriaci non avevano pronta ancora una polvere in fumo, così Mannlicher innanzitutto adatta il design ad utilizzare una munizione di piccolo calibro, dall'11 mm del 1886 agli 8 mm del successivo Mannlicher 1888 e 1888-90. Nel 90 infatti tutte quante le armi vennero convertite a una nuova cartuccia, sempre a 8 mm, sempre a polvere nera. E una cosa strana che si vede in realtà solo in Austria e Ungheria, la cosiddetta polvere semi in fume, uno step di passaggio tra la polvere nera alla vera polvere in fume. In tutto questo la cavalleria e l'artiglieria con le loro carabine erano stati lasciati indietro. Con l'imminente arrivo finalmente della polvere in fume, l'esercito austriaco decide di adottare questa benedetta carabina. Mannlicher convince l'esercito austriaco della bontà di utilizzare un dotturatore più solido come quello appunto famoso dei Mannlicher. Due tononi di chiusura che ruotano di 90 gradi. Bisogna attendere qualche altro anno, quando l'esercito austriaco avrà di nuovo dei soldi, per l'adozione finalmente del 1895. Quello che per certi versi sarà il Mannlicher definitivo, potremmo dire. Spostiamo quindi la telecamera, andiamo a vedere da vicino com'è fatto. Diamo un'occhietta a questo bellissimo Stair Mannlicher. Allora, innanzitutto, davanti ovviamente abbiamo un mirino molto utile se vogliamo prendere il bersaglio. Abbiamo poi una delle fascette che è l'innesto anche della baionetta. Abbiamo anche questo pezzetto che molti non sanno a cosa serve. Questo serve a impilare tre fucili insieme. Molto utile se siamo in campagna con i nostri commiglitori, non vogliamo che la nostra arma si sporchi. Su tutta la lunghezza dell'arma abbiamo un duplice paramano. Andando indietro troveremo un altro attacco per il cinturone su un'altra fascetta. La cordicella, tra l'altro, è una cosa che ha messo il proprietario, perché tiene una moneta, che ci sarà molto utile nel rimettere l'otturatore dentro all'arma, come vedrete. Ma ci arriveremo. Andando indietro troviamo una bella scalanatura perfetta per le mani, finger groove viene chiamato in inglese, e ovviamente gli organi di mira. Gli organi di mira che hanno uno zero qui da battaglia da 300 metri, alzandoli andiamo dai 600 a degli estremamente ottimistici 2.600 metri. Questo ovviamente non è per un tiro di precisione a bersagli individuali, ovviamente è per sparare da formazione a formazione. Una cosa molto interessante è il punzone con la S, cioè ci informa che può accettare la palla Spitzer, la 8x56, non la vecchia 8x50. Poi ovviamente vediamo la scritta Steyer M95 che ci informa della marca e del modello. Lo Steyer ovviamente è un sistema straight pull, ovvero l'otturatore viene mosso indietro con un colpo solo e torna in avanti con un colpo solo. Qui questa cosa che vedete la sicura, che possiamo semplicemente premere all'interno, che come vedete rende l'arma sicura. Ovviamente levandola e premendo il grilletto avrò lo scatto. Il cuore del Mannlicher ovviamente è l'omonimo sistema. Mannlicher, questo sistema utilizza un caricatore interno, che ha un suo elevatore, che però non ha i labbri di alimentazione. Vi faccio vedere, questa è una clip, non la carico perché queste sono munizioni buone, tra l'altro storicamente queste sono le munizioni veramente di produzione originale. Non la carichiamo perché sono buone, ma la clip viene inserita all'interno dell'arma e la clip soprattutto contiene i labbri di alimentazione. Questa prova pratica lo vedremo fra pochissimo con la prova a fuoco. Vi faccio vedere giusto come si inserisce una clip vuota, che tra l'altro cascherà di sotto, perché è proprio vuota e non c'è niente a tenerla. Facendo questo tipico rumore delle clip Mannlicher, che vengono espulse. Questa clip del Mannlicher originale è monodirezionale, come vedete si può metterla soltanto in una direzione, neanche volendo non entra se messa a testa in giù. Come vedete quindi il pacchetto di munizioni deve per forza andare in questa direzione. Ciò ha lo svantaggio ovviamente pratico, che nel fervore della battaglia devo stare a pensare a che direzione, in quale direzione sto mettendo la clip. Ciò può essere considerato uno svantaggio. Il vantaggio però di questa tipologia di clip è che l'affidabilità dell'alimentazione è decisamente migliore. Non devo pensare a rendere la clip simmetrica, ma posso concentrarmi solo su rendere l'alimentazione da un lato, la resistenza anche strutturale della clip, come essa viene agganciata, perfetta. È più semplice e più affidabile di una clip che va in due direzioni. Quindi doubt death, svantaggi e vantaggi in questo caso. Alla fine dell'arma abbiamo inoltre un altro punto di attacco per il cinturone. Il lato destro non si presenta molto diverso e spoglio di qualsiasi voglia comando, come abbiamo discusso. Ultima piccola cosa, qui abbiamo un pulsante per rilasciare la clip. Se abbiamo una clip carica, che non vogliamo usare con questo pulsante, la possiamo rilasciare. Ora, per levare l'otturatore, dobbiamo spingere il grilletto in avanti, in tal maniera ci sarà possibile... Oh, è rimasto incastrato! Ah, vedi? Intanto con la moneta si spinge in avanti. Quando si incastra così è a posto. Grazie per vedere l'arma. In questa maniera, a parte che saremo in grado di rimontare l'arma, è molto più agevole in questa maniera. Notiamo innanzitutto i tenoni di chiusura dell'arma e il grosso estrattore. All'interno di tutto questo, è nascosta in realtà la gamma diagonale che va a ruotare il nostro otturatore. Notiamo inoltre la superficie del dente di scatto. Non ci sono molte sorprese da questo punto di vista all'interno di quest'arma. Sapete cosa? Rimettiamo l'otturatore. In questo momento posso togliere la moneta, sì? Sì, ok. In avanti con violenza. Allora, eccoci qua finalmente a provare questo stupendo Steyr Mannlicher M95. Fa un caldo bestiale, quindi non me ne vogliate se per parte della prova a fuoco sto seduto un po' più comodo all'ombra anche perché non voglio grondare come un passo di sudore. Il nostro otturatore è aperto. Abbiamo il nostro pacchetto Mannlicher che è monodirezionale. Come abbiamo visto, magari non è sempre buono per il caricamento perché bisogna guardare la direzione ma aiuta tantissimo con l'affidabilità dell'arma. Inseriamo il pacchetto, lo facciamo scorrere fino in fondo finché non fa click. Una volta che ha fatto click, otturatore in avanti con una bella botta decisa. Prendiamo la mira e facciamo fuoco. All'ultimo colpo, come avete sentito, la lastrina esce e l'ultimo colpo viene espulso la lastrina sta per terra. Allora, premissime sensazioni. Poi ovviamente la proviamo in qualche altro angolo. Belli organi mira. Sono sicuro che ho fatto un bel gruppo poi magari lo andiamo a vedere. Il grilletto ha anch'esso abbastanza netto anche se leggermente duro. Ora sto appoggiato con la mano ma anche il bilanciamento dell'arma è un'arma sorprendentemente leggera. Nel senso che quasi tutti i fucili di fanteria sono di questa classe e dimensioni di bilanciamento ma questo in mano mia non lo so sembra essere fatto quasi per me lo trovo particolarmente ergonomico. Un'ergonomia che raramente ho trovato se non con armi come per esempio il Lienfield. C'è una cosa però che mi aspettavo che ho ritrovato l'otturatore soprattutto la parte primaria dell'estrazione in cui dobbiamo sia estrarre il bossolo sia far ruotare la testa dell'otturatore è abbastanza duro. È un'arma che va con molta decisione manipolata operata quindi sia indietro sia in avanti bisogna farlo con molta vehemenza e a volte questo movimento ti sbilancia l'arma dalla spalla potremmo dire quindi fatto per essere più veloce da operare di fatto è tanto lento quanto i bolt action poiché spesso devi riprendere un attimo la posizione è la mira quindi per questo in realtà gli straight pull non si diffondono di più non hanno tutto questo vantaggio spostiamo con la bella telecamera ricarichiamolo e proviamolo ancora per la bella Allora, altre sensazioni Lo Stare Manniger non è affatto male È un'arma che mi piace L'unica cosa appunto Se solo fosse un Volt Action normale Perché è bilanciato Ha dei belli organi di mira La clip in realtà Manniger funziona meglio Di altre clip che abbiamo visto in passato Soprattutto col fatto che è unidirezionale Meno versatile nel combattimento Ma sicuramente per quanto riguarda l'alimentazione E la qualità dell'alimentazione Aiuta Se solo avesse un duratore bello, docile Come ci danno, non so, i Mauser 98 o 93 Purtroppo lo straight pull ha i suoi vantaggi E i suoi svantaggi, indubbiamente Poi con l'aumentare sicuramente lo sporco Delle fecce del combattimento Questi sistemi tendevano veramente a volte A bloccarsi completamente Non è un caso se praticamente dopo La prima guerra mondiale Se non per poche eccezioni Nessuno fa straight pull Di fatto, nessuno fa armi nuove in straight pull Mentre appariranno Bolt Action nuovi Un motivo ci sta Spostiamo dalle camera Spariamo qualche altro colpo E vediamo Grazie a tutti per aver visto questo video Come sempre ricordatevi Credo che questi video sono resi possibili esattamente da persone come voi Voi che venite qui Fino a Broni In questo momento dove sto filmando A farmi provare queste stupende armi Che avete magari nella vostra collezione Voi che magari Volete contribuire a questo canale Fare questi video tre volte a settimana Come sto pubblicando Non è mai gratuito Onestamente sapete quali sono i costi Se andate a sparare Quindi ogni aiuto Mi aiuta sicuramente a mantenere almeno questo Questo ritmo Non dico che Vlad SparlaStoria Morirebbe senza di voi Ma sicuramente Non ci sarebbero tutti questi video Ecco E ovviamente tutti quanti voi Che magari non volete Non potete sborsare dal portafogli Ma lasciate almeno un like Un commento Queste cose aiutano tantissimo La visibilità e l'algoritmo YouTube YouTube che come ogni buona corporation americana Non ama affatto le armi da fuoco Quindi anche questo aiuto è fondamentale Grazie a tutti per aver visto questo video Come sempre noi Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao